Si parlerà spagnolo a Ravenna. Dal 3 al 9 luglio 180 ragazzi dagli 8 ai 18 anni potranno partecipare ad allenamenti mirati con tecnici e staff dell'Atletico Madrid. In programma sono previsti anche corsi per allenatori e un amichevole al Vanda Complex tra formazioni giovanili. Il calcio forse oggi non è più in grado neanche ad alto livello di provvedere autonomamente a se stesso, bisogna rinnovarsi e io credo che chi ha delle idee ha maggiori possibilità di farcela. Questa è una bella idea perché può essere la piattaforma di un entusiasmo che coinvolge anche i giovani, i ragazzi, le famiglie, il territorio che è un po' la cifra della nostra organizzazione. Mister Sacchi, per il Ravenna che cosa comporta questa collaborazione con l'Atletico Madrid? Hanno valore o no? Dipende sempre dall'impegno che le persone ci mettono. Siccome l'hanno fatto, io credo che ci metteranno impegno, allora può avere un grande valore in quanto l'Atletico è una delle più grandi squadre del mondo. Quindi è una cosa di prestigio, però io sono un uomo pratico e quindi prestigio va benissimo quando c'è un dare, do u des, dicevano i latini.